Io invece andrò direttamente nel futuro con queste lavagnette che tu prendi in giro, ma è una cosa serissima, questo è un brevetto mondiale, siamo in una trasmissione di calcio, parliamo di classifica, sappiamo tutti che prima in classifica, dobbiamo dirlo, non ci fa molto piacere, ma prima in classifica c'è lei, questo è il gagliardetto, lo stemma, il simbolo della squadra prima in classifica. Ora io che cosa faccio? Ecco si riesce a vedere anche da casa, sovrappongo le due lavagnette, chiedo ovviamente alla signorina Mercurio, se vuoi mettere una firma in modo che, quando non ha studiato, non c'è niente da fare, allora vuoi mantenere le due lavagnette così? Ora attenzione, perché io chiedo alle lavagnette di andare avanti nel tempo, so se è una da settimana, due, tre o qualcosa in più, non lo so perché il tempo non si calcola nella magia, chiedo agli spiriti della magia di farci capire cosa succederà, vediamo cosa succederà, è una cosa veramente indiretta, abbiamo visto poc'anzi lo stemma, vediamo andando direttamente nel futuro cosa accade, beh ragazzi accade una cosa molto carina che al primo posto c'è qualcun altro, però, grazie, qualcuno potrebbe chiedersi, ma è la vecchia signora, è la Juventus? Ora non so che vogliono dire gli spiriti, io qua vedo un paio di... no, aspetta, aspetta, significa che verrà arrestata l'ascesa della vecchia signora nella classifica di Serie A, solo tanto questo, solo tanto questo, va bene. grazie